Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono Genta e benvenuti a questo nuovo video che ci siamo ritrati su Mostrata Genesciosa Ultimetrico l'ultimo video che oggi in data 19 maggio registro l'ultima volta perché dovessi visto i scorsi episodi avevamo fatto ho fatto un po' di scoperte tra virgolette vedete la scoperta grossa è stata solo una che è quella della meccanica dello sciame che finalmente sono riuscita a giocarmi nel secondo tentativo contro il Nibesnerf continuo a sbagliare l'aggettivo determinativo prima del nome stupendo è proprio la prova lessicale che è la prova che non ho di fuori nel lessico e nonostante che ci sia il capovillaggio creato a dirci qualcosa di importante da tipo 2 ore cioè da 3 episodi continuiamo a fregarci perché dobbiamo completare le missioni del Darts della Wingcademia ma prima di andare do un attimo un'occhiata qui dal Mastro Martello se ci sono delle nuove armature con delle difese migliori da darci allora innanzitutto nella scorsa ho puntato finalmente ho potenziato il mio falcione e adesso ho attacco 100 ma soprattutto la puntezza verde poi qui voglio vedere se tipo io cosa ho tipo di tipo di armatura posso confrontare no non con l'abilità no schermata ah schermatevi dico un X vedo le differenze con l'armatura che ho al boss adesso ok perfetto voglio vedere se faccio qualcosa di nuovo tipo falda ermitaug beh piuttosto che la falda baldrome ma si dai facciamola equipaggela ecco ci abbiamo la falda ma no aspetta cambiamo cambiamo andiamo a cercare sulle altre parti skinnieri io prei beh a posto beh 14 sempre meglio di 12 dai facciamola avrò delle difese elementali ragazzi ridotte allo schifo o comunque invece per no beh c'era ermitaug a posto dei ghenoplus va bene equipaggia poi qui con il torso ci abbiamo ricordo il torso del tezukabra e mettendolo a corte le cucu abbasserei soltanto la statistica quindi io direi di lasciar stare beh qui posso farmi l'emo del tezukabra a posto dell'emo del lazurus da allora ok perfetto cambio di armatura vediamo il riepilogo difesa 91 quindi da 69 a 91 siamo aumentati con la difesa base sono stradevole al turno però in compresso c'è un pochino di difesa al fuoco al drago beh dai ormai le difese elementali saranno un optional in questa serie sarà difesa fisica quella a contare vai ci vuole fegato ah che battuta consegna 5 fegati di acceos ha intuito le cacce in cui si cacciano mostri sono finite ha intuito adesso in questa puntata faremo solo missioni di raccolta allora aspetta prima devo mangiare ho dimenticato di mangiare stavo dimenticando di mangiare pentolata ardente la solita posso anche dire il solito ormai tanto no no della verità a me non piace dire il solito anche quando vado tipo ehm aspettate eh ehi hai sentito pare che il fegato di acceos abbia insospettabile proprietà curative la domanda è schizzata le stelle non è che mi faresti la contesa di procurarmene qualcuno va bene la ma io in verità anche quando vado tipo boh al solito panificio al solito fast food vicino a casa non mi viene mai da dire il solito anche se magari tipo la gente mi conosce che ne so o ci conoscono me e i miei familiari no non mi viene naturale mi viene più naturale dire prendo questo e dico sempre il solito nome il nome solito della cosa che voglio prendere che voglio prendere eccoli i nostri obstacles vabbè in sostanza ho dimenticato di dire che visto che ho scoperto la meccanica dello sciame nella scorsa puntata state pronti che d'ora in poi la evocherò praticamente ogni singola caccia mostro grande ovasti cefalo sono veramente peggio di una cioè veramente penso che sia piaciuto dare una cannuccia nel caffè penso che sia piaciuto dare un caffè con la cannuccia che mi trovassi in mezzo ai proprio al al alla spira dorsale sti in mezzo di squali bianchi con la che fastidio Me ne servono altri ah questo è un gendrome pensavo fosse un gempre infatti ho detto ma com'è se c'è un gempre solitario e ha un gemdrome Quindi nei paraggi Quindi in giro per le dune c'è un gendrome Buono a sapersi Perché non si parli cefadromi O nibblesna Messaggi Ok Va tutto bene Non so se questo è veramente l'ultimo episodio Che registro oggi perché è verità Se lo registro sarebbe praticamente Il penultimo della settimana Perché sarebbe il ventinovesimo episodio Addirittura due Me ne manca solo uno adesso Sì perché questo è l'episodio 26 No quindi sarebbe Scusatemi Allora se avessi fare l'idea di gestire un altro episodio Sarebbe il ventisettesimo Ok ok Mi sono ritrovato Scusatemi Non il ventinovesimo Sarebbe il ventisettesimo Questo è il ventiseiesimo Se non ho fatto male i conti Il prossimo è il ventisettesimo Quindi Matematica Ma ci ho ripensato Con il registro questo Poi basta Scusatemi Scusatemi mi serve un ultimo fegato porco demonio oh le basta levamose levamose via leviamoci leviamoci ma visto che sono stradebola potrei essere considerata potrei essere paragonata ad un paro fulmini vivente visto che sono deboli fulmini è perché li attiro visto che sono fatta tutto di ferro potrei essere considerato un paro fulmini meglio non venire nel deserto di notte perché nel deserto ho risaputo che ci sono le tempeste di fulmini ogni tanto ci sono delle tempeste di fulmini da quanto so se c'è un temporale nel deserto non piove però scende però scendono solamente i fulmini da quanto so questa è la poca cultura generale che ricordo ancora ma dove avevo letto io una volta che mi serviva il cristallo gelo per qualcosa boh non me lo ricordo proprio ragazzi una volta avevo letto che mi serviva il cristallo gelo per qualcosa ma non mi ricordo assolutamente per cosa scusa sospettavo era da un po' che non mi apparivano era da un po' che non andavamo i genci ecco sospettavo che sarebbe arrivato ecco il buono compagno vai continuiamo proseguiamo ad astuti predoni caccia 20 veloci per le colline verdi ok passiamo alle missioni delle colline verdi ben stagionato ben stagionato considerate che ci pariranno altre missioni quando andremo a parlare agli altri capovillaggi degli altri villaggi ma va bene fattori autoctoni i veloci pei che avevo sui colli sono una vera seccatura attaccano i bestiame sono parecchi e gascibili ne cacciaresti 20 per me ma guardati dai loro leader grazie per avermelo detto mappa grazie a tutti grazie a tutti c'è solo davvero un veloci pei in questa zona ok grazie a tutti accogli i materiali non si sa mai grazie a tutti grazie a tutti vediamo che sta cacciantatino più interessante no Ah, volevo raccogliere i materiali Va beh Non ho presa Avevo fermato la coppa perchè pensavo che mi aveva solo presa Non ho presa Le Non ho presa Ah, dove vai te? E' troppo bello il suono dello sciame, sembra che ci stava volando una sfera d'energia attorno Non un bracco di insetti Vai, cos'è l'obiettivo secondario completato? Sospettavo che l'obiettivo chiedesse di cacciare il veloci pree, eh Il veloci di uomo, scusate Intanto mostri rimasti 10 Arrivederci, il sciame c'è stato di grande aiuto E' bellissimo Lo sciame, ragazzi, c'è Dove lo uso sempre Perchè praticamente anche quando mi fanno volare via Ma comunque sono vicino Lo sciame gli fa danni E quindi fanno il danno che avrei voluto fare io Ecco E' una sbitragliata contigua di danni Cioè io da un palo utilizzerò sempre lo sciame Per qualsiasi caccia ai vostri Anche quelli piccoli Ma le sono uscite veramente 6 Da questo buco di veloci pree Ah ok Ok non posso fare con le mostrante rise che posso ottenere dell'estratto anche dal mostro morto no non posso le mostrante rise anche il gold mi sembra puoi ottenere della polvere acqua di mostro è morto puoi prendere della polvere anche dal suo cadavere non è vero Eccoli Uno Finito Siamo tornati Ecco torniamo a casa Che abbiamo un bel po' di pelli Aspettiamo così La fine della missione Grazie 21 minuti Possiamo fare un'altra missione Poi ci sentiamo per oggi Mendole e barbara salgo da livello 12 Tutti i pazzi per i fughi Consegna 10 fughi speciali Alle colline verdi Va bene Vai vai accolta felain Ecco Per le missione di raccolta Piatti che mi danno la colpa felain Perfetto Aumenta le possibilità di raccolta Cioè E' più probabile Che accogli più volte Anziché meno Perché delle volte Se sfigate Accogli solo tre volte Da un punto Delle volte Se fortunate Fortunato Accogli di 8 volte Con la corta felain Ti aumenta la possibilità Di raccogliere tante volte Ultimamente C'è la forte richiesta Di funghi Dai colli verdi Portami ai 10 Ti allargirò Parte dei profitti Oh Ho sentito Che ci sono Dei veloci di uomo In quella zona Quindi occhio Non mi farò problema A cacciarli un'altra volta D'altronde Ci ho sempre Vario di cacciare In ste In ste missioni Quindi Anche Se C'ho Dei funghi Da portare a casa Ma c'ho lo stesso Fammi di caccia Eh Mi spiace Su quei Su quei Poveri veloci di uomo Sazio la mia voglia Di caccia Vai Una decina di funghi speciali Se s'affortunati Venco tutti qua Due Quattro Cinque E già siamo a metà Sei Otto Nove Dieci Prima Pange E' tipo la missione più veloce che abbia mai fatto, tranquillissima, quanto è piegato? 1 minuto e 24 secondi e in totale siamo a 24 minuti di video ma io non voglio terminare l'episodio ha soli 24 minuti. Visto che la scorsa puntata l'ho finita a 28, in questa posso permettermi di sforare un pochino con i tempi perchè recuperiamo i minuti che non abbiamo fatto nella scorsa puntata. No, quindi... Perché te la pelle di Moswey mi hanno regalato tra le varie cose? Vabbè. Ah, questi affari di funghi. Non affari intesi come cose, oggetti, fatti proprio affari in termini di profitto. Dai, facciamo un'altra missione ancora. Neve mista alla gombi, caccia la gombi su botte attico. Va bene, chiudiamo con una caccia. Mangiamo della pasta. E andiamo a cacciare la gombi, che ha una struttura, ha una struttura con poche identica a quella dell'Azuros. Dunque aspettatevi che si muova come l'Azuros. Parlo per quelli che non hanno visto la serie su Monster Hunter Guys. Lo so che voi che avete guardato Monster Hunter Guys sapete come ha fatto la gombi, comunque lo spiego per chi non ha visto la serie. E' un grosso coniglio, comunque, che ti ha parole di neve, quindi... Che do rispetto alla fisica, aggiungo. Inizio il messaggio. La gomba è avvistata sul monte attico. Stop. Se richiede il supporto emidrato. Stop. Siamo bloccati dalla neve e non possiamo prestare soccorso. Fine messaggio. Allora ci pensiamo noi. Bene, perché abbiamo già terminato le missioni delle dune, le missioni delle colli verdi e le missioni... Cioè, adesso abbiamo iniziato quelle del monte attico. Missioni date dalla Wicademia specifico, eh. Perché, ripeto, quando andremo a parlare e vai in capovillaggio salteranno fuori altre missioni. Comunque il lagombi, in quanto il coniglio delle nevi, sta in alto, in cima alle montagne, quindi... Vedi qui... E vediamo se riesco a stare sotto ai 10 minuti. Ora che ho scoperto... Ora che ho l'arma al verde, con l'acutezza verde. Ora che ho scoperto la meccanica dello sciame. Vediamo un po' se riesco a giocarmela bene. Allora, sta alla 8, da quanto mi ricordo. Quindi proprio in cima alla montagna. E visto che è un cugino dell'Azio, si suona di sottofondo la stessa musica. Fateci caso quando cominci il combattimento. Questa è la musica solita di quando si accorgono di te. Penso che l'obiettivo secondario sia a rompere l'orecchio della gomma. Non l'ho letto però. Allora. Ah, ja. Mi si siede sopra Voleva sedersi sopra di me Aia Aia Evoca lo sciame Tra l'altro fa pure danni di fuoco e tuono E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco Mamma mia che mitragliata di colpi ragazzi Fai così orecchie otte E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono Se ne va alla 7 No alla 5 Si stia fuori da mangiare eh Si stia fuori da mangiare Del fungo Eh no non ti faccio mangiare E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono E la gomma dovrebbe essere stradebole al fuoco e tuono Fai così Penso ragazzi che lo sciame faccia il danno che fa il mio pincetto Comunque mamma mia ragazzi Penso che quando ho letto nella descrizione della arte dello sciame Di quando lo si usa in gruppo bisogna essere ben coordinati con gli altri Penso che si riferisca al fatto che la voce attacca tutto ciò che osa avvicinarsi Intende dire proprio tutto Quindi anche i personaggi che aiutano Perché vediamo un po' Vediamo se mi avvicina Barbara tipo No Barbara non fa niente Vabbè non ho capito quella scritta Comunque Senz'altro intendeva di una cosa del tipo Mi raccomando quando si evoca Stare attenti alle persone attorno Fa male a tutti Quindi ragazzi direi che dopo questa Il video di oggi si possa concludere qui La prossima volta Conseguiremo nel completamento delle missioni a tre stelle Intanto se questo video vi è piaciuto mi raccomando Lasciate un mi piace Ricordatevi di iscrivervi al canale Se volete continuare a seguire il video In descrizione trovate il link A presto in completa Su sto gioco Cosa ormai vi fosse perso qualcosa Il link al mio profilo di Instagram Dopo le ho aiuto Ogni tanto ho posto qualcosa Scusate E inoltre vi ricordo che ogni tanto ho posto qualcosa Poi qua Sulla community del canale Detto questo Io vado a riporre le robe Che ho preso nella casso oggetti E a salvare il gioco E noi ci vediamo alla prossima Grazie Grazie a tutti